Avvertenze importanti. Specifichiamo che questo video non rappresenta una consulenza di investimento né una raccomandazione di investimento, ma esclusivamente una pubblicità. Tutte le informazioni sugli strumenti finanziari trattati, compresi i rischi, sono descritte nella documentazione legale rintracciabile gratuitamente nel sito dell'emittente certificati.fontable.com. Raccomandiamo di leggere attentamente tale documentazione prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento. In questo video si fa riferimento a performance passate o future degli strumenti finanziari. Ovviamente le performance passate, così come le previsioni, non sono un indicatore affidabile delle future. Per qualsiasi ulteriore informazione legale, consultare il sito certificati.fontable.com. Allora, oggi propongo un long, ma sull'S&P, perché voglio proporre un multi-day, voglio dare spazio a questo trade che ha bisogno di almeno 4 giorni. Quindi un trade long con un target deve essere raggiunto massimo entro venerdì e lunedì. Long praticamente è a cavallo dei valori attuali, ci mancano 0,75 punti. Sull'S&P 500 è ingresso a 4.436. Lo stop lo mettiamo un po' sotto, diciamo, la zona di accumulazione di ieri, quindi 4.406, e il target l'ho messo leggermente più basso, ma in realtà sarebbe più alto comunque per, visto che ultimamente sono un po' sfortunato, perché praticamente sono troppo preciso, i prezzi per un punto non mi chiudono l'operazione, ho deciso di abbassare un po' il target per evitare casini. Quindi 4.475 è il target di questo trade, che comunque avrebbe, in realtà dovrebbe arrivare a toccare 4.499, quindi c'è un POC del 20 di settembre 4.500. Questo è il target settimanale, però per sicurezza abbasso un po' il target, perché poi ultimamente a volte sono troppo preciso. Grazie a tutti.